quindi in questa seconda ora iniziamo non detto che diciamo finirlo a vedere questo esercizio che è stato suggerito sul poker vediamo il testo insieme per chi non avesse già visto prima io lo vedo online anche qua su questo sito li ho reso pubblici poco fa questo stesso insieme di testi d'esame così via via che ne aggiungo li troverete in tempo reale aggiornati qua oltre ovviamente solo i tzip che potete scaricare ma a volte c'è anche un'evoluzione rapida di questi esercizi volevo solo verificare sì ecco su questi siti avevo anche messo in realtà ci sono anche le soluzioni cosa che mi chiederei di non guardare perché sennò tanto vale soluzione che ho risolto io quindi non sono ancora diciamo così leggibili commentate ma è la prima soluzione che ho buttato comunque qui ci chiede di considerare un mazzo di carte da poker per quattro giocatori sapete che il numero di carte che si usano a poker dipende dal numero di giocatori se giocate solamente in due ci sono le carte dal nove all'asso invece di giocare in tre si mette dentro anche l'otto se giochi in quattro si mette dentro anche il sette se giochi in cinque si mette dentro anche il cinque e così via facciamo una partita classica a quattro giocatori quindi le case del sette all'asso nei quattro semi cuori quadri fiori picche come quando fuori piove ricorderete l'ordine con cui devono essere rancati il valore dei semi del poker e per semplicità per non impazzire con gli unicode diciamo che questi quattro semi sono rappresentati da loro iniziali in italiano cuori quadri fiori e picche il programma deve generare tutte le carte del mazzo quindi creare una struttura dati che rappresente l'intero mazzo di carte memorizzando in un'opportuna struttura dati ed eseguire le seguenti operazioni uno mescolare il mazzo quindi prendendo le 32 carte che ho generato e mescolarle in un ordine casuale salvare sul file mazzo.txt il contenuto del mazzo mescolato così possiamo vedere quali sono le carte che sono state mescolate ciascuna carta deve essere salvata su una riga separata in due campi separati da uno spazio il primo campo è il valore quindi 8 il secondo è il seme tipo cuori quindi 10c sarà 10 di cuori uno per riga 3 e la parte complicata è questa estrarre non è ancora questa estrarre le carte dal mazzo a gruppi di 5 ignorando il resto cosa vuol dire ignorando il resto? che se le carte sono 32 e le prendo a gruppi di 5 ne restano fuori 2 avrò 6 mani di 5 carte più 2 che avanzano quelle lì le ignoro per ciascun gruppo di 5 per ciascuna mano diciamo così di poca una mano è fatta da 5 carte occorre stampare a video le 5 carte estratte nel formato che più vi piace ad esempio questo stesso di sopra e poi e qui tutta la complicazione di questo esercizio è qua dentro la combinazione del poker corrispondente alle 5 carte estratte quindi queste 5 carte qui cosa fanno? che punto fanno sul poker? e qui semplicemente come nota ho ricordato copiando da wikipedia quelle che sono le combinazioni riconosciute nel poker tradizionale quindi coppia, doppia coppia, tris, scala, full, colore, poker eccetera con le definizioni e quindi bisognerà stampare ok questa mano di carta giocata qui c'è un esempio ad esempio c'è un asso di cuori un jack di fiori un asso di picche un re di picche e un re di cuori questa è una combinazione che è stato riconosciuto che è una doppia coppia perché abbiamo una coppia di assi cuori e picche e una coppia di re invece l'ultima combinazione è un full perché ho un tris di jack e una coppia di 9 quindi questa è la parte rognosa soprattutto riuscire a farla in modo diciamo così umano io avevo scritto questa avvertenza verificare tutte le tipologie di combinazioni non è particolarmente arduo cioè qui ci ritroveremo praticamente non dico agli esercizi che facevamo all'inizio del corso dove dovevi vedere se c'erano tutti gli elementi uguali se c'erano almeno tre elementi uguali eccetera eccetera ma farle tutte richiede un tempo decisamente più lungo di quello disponibile all'esame quindi questo non è un esercizio difficile è un esercizio lungo perché ci sono uno, due, tre, quattro otto diverse combinazioni da testare quindi non preoccupiamoci se non iniziamo a farle tutte in un tempo ragionevole infatti poi ho detto in un vero testo d'esame sarebbero richieste solo alcune di queste combinazioni e non tutte proprio per ragione di tempo non sono difficili però ciascuno ha una regola leggermente diversa ok qui non abbiamo ancora la parte che non ho messo in questo testo è decidere chi vince perché qui chiaramente dico solo che punto allora poi è chiaro che se un poker vince sul colore e se il colore vince sul full però se ho due full quale full vince? noi sappiamo che la regola è se ho due full devo confrontare i tris il valore del tris se ho una scala che non sia una scala reale devo confrontare il valore della carta più alta se ho una doppia coppia devo confrontare il valore della carta più alta tra le due coppie eccetera eccetera quindi si complicherà ancora di più andare a trovare chi tra due mani generiche quale delle due vince per ora non viene richiesto ci fermiamo qua però sapete che se 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 mangiate troppo panettone non uscite a dormire la notte potete aggiungere il punto 4 e dire date due mani generiche decidere chi ha vinto ok però entriamo nel merito passo 0 opportuna struttura dati cioè come memorizzo queste cose come scelgo di memorizzare la singola carta e un gruppo di carte gruppo di carte che può rappresentare l'intero mazzo oppure una mano qui parla di gruppi di 5 chiamiamo la mano normalmente si parla così una mano di carte sono le 5 carte che vengono giocate allora è chiaro che il mazzo e la mano li vedo come liste una lista di 32 carte sono un mazzo una lista di 5 carte sono una mano una lista di 32 carte lista anche perché il mazzo è ordinato esiste una prima una seconda una terza carta è un rimescolamento del mazzo stesso la singola carta come la rappresento la singola carta contiene diciamo così un'informazione che è fatta da due campi io la potrei immaginare apro un file di testo così scrivo anche non parlo solo dunque eravamo nel progetto settimane mi avete chiesto di fare il poker quindi faccio una cartella poker e mettiamo in file che chiamiamo anche lui poker intanto abbiamo fantasia quindi soluzione sarà parziale volta insieme esercizio poker allora come rappresentare quindi come rappresentare il mazzo di 32 carte o la mano di 5 carte abbiamo di dire che l'unica cosa sensata che ci viene in mente è una lista e fin qua nessuno si sta lamentando invece come rappresentare ciascuna singola carta allora io potrei mi verrebbero in mente tre cose una è usiamo una stringa carta uguale 10 di cuori una stringa l'altra carta sarà 7 di picche carta uguale 7 di picche cose del genere qui in una stringa rappresento questo simbolo della carta è chiaro che poi quando dovrò poi fare le mie verifiche fino a quando devo stampare leggere rimescolare è facile quando verificare se ho fatto una doppia coppia o un colore c'è da sudare perché poi in questo 7 di picche dovrò separare il 7 perché fa parte del valore e la P di picche che fa parte invece del del seme e dovrei per il colore mi interessa il seme per la scala reale mi interessa il seme per la scala oppure per il tris mi interessa solo il valore e non il seme quindi li dovrò trattare in modo separato non mi piace tanto ok li metto insieme e poi tutte le volte che devo lavorarci li dovrò separare tanto vale tenere i separati la seconda possibilità qualcuno ha suggerito facciamo una tupla quindi qualcosa carta uguale il valore quindi 8 e il seme di picche oppure carta è il 10 di fiori 10 fiori questa è un'altra possibilità non è che sia molto più complicata della prima da da gestire ma me li trovo già separati quindi mentre sopra dicevate adesso aggiungiamolo come commento che il valore per voi sarebbe stato il seme in questo caso sarebbe stato l'ultimo ogni volta dovrei fare carta di meno 1 l'ultimo carattere e il valore invece sarà carta di tutti i caratteri tranne l'ultimo quindi due punti meno 1 dall'inizio fino all'ultimo escluso qui si è complicato perché sto maledetto 10 occupa due caratteri e quindi non posso dire il primo carattere il secondo carattere se le usassi delle tuple il seme sarà semplicemente carta di 0 no di 1 pardon e il valore sarà semplicemente carta di 0 ogni volta che ne ho bisogno quindi mi sembra tra queste due opzioni mi sembra preferibile la seconda rispetto alla prima l'altra possibilità che mi viene in mente è creare un dizionario che può sembrare più verboso carta separo un dizionario che tratta la carta come un record composto di due campi ciascuno dei quali ha un suo nome e una sua identità quindi è fatta di un valore che in questo caso è il ad esempio il lotto e di un seme che può essere picche poi avrà un'altra carta che sarà magari il 10 di fiori avrà valore 10 seme fiori e in questo caso quando devo stare il valore lo potrò visto che è un dizionario lo potrò prendere dalla carta indicizzando sulla chiave che si chiama valore e mi darà il 10 l'8 il valore della carta se mi serve il seme indicizerò la carta usando come chiave la parola seme ok alla fine sono tre modi diversi il primo ha una struttura implicita impacco in una stringa e poi dopo ci penso il secondo già separa i due campi e poi devo ricordarmi io che il valore è lo 0 e il seme è l'1 il terzo è un passo in più che non solo separa due campi ma da uso come indice non carta di 0 carta di 1 ma carta di seme e carta di valore e quindi ho un indice anche esplicito rispetto al caso della tupla quindi posso scegliere come sotto forma di una rappresentazione della carta sotto forma di unica stringa sotto forma di tupla o sotto forma di dizionario usato come record ricordate la differenza il dizionario usato come array associativo come abbiamo fatto negli esercizi precedenti le chiavi fanno parte dei dati che io leggo che acquisisco nel mio programma che devo gestire nel mio programma mentre invece se uso il dizionario come un record le chiavi sono sempre le stesse per tutti gli elementi in questo caso la chiave è sempre valore seme valore seme per tutte le carte ciò che cambia sono i value io devo dire eviterei la stringa eviterei di usare stringhe perché a volte la tentazione di usare stringhe ovunque perché sono più semplici poi alla fine ti complichi con questi indici non sai più cosa stai facendo a volte perché alla fine sono tutte stringhe nell'esercizio che ho risolto io per conto mio l'altro giorno quando ho preparato questi temi di esami sono andato sul dizionario perché comunque un tipo di dato strutturato a due campi li mettoni separati devo dire che non c'è neanche pensato al poterlo fare come tupla ma in realtà vedendolo così potrebbe andare bene lo stesso in certo senso l'importante è non far confusione tra questi due indici 0 e 1 che dopo un po' ti rischi di dimenticarti perché carta di 0 carta di 1 è meno leggibile è meno chiaro di carta di seme e carta di valore poi è vero che risparmi qui scrivo 0 qui devo scrivere seme tra apici quindi uno sai il carattere inziché 1 però tutto sommato non è che sia questa grande difficoltà quindi sono abbastanza indifferente e poi vedremo magari io prenderei nel risolvere una di queste magari quella dal dizionario che è un pochino più evoluta magari quella più complessa ci può servire anche in altri casi e poi magari dove è opportuno facciamo vedere le differenze in un commento di come sarebbe stato se avessimo usato una tupla dunque la domanda di Giulia è non si potrebbe usare come chiave il valore e come segno il value senza fare un record quindi tu vorresti fare una cosa del tipo mazzo di 7 uguale fiori cioè tu avresti una entry in cui la chiave è il valore e la chiave è il valore della carta e il value è invece il seme allora questo qua non funziona per due motivi mi spiace dirvelo così ma il primo motivo è che allora il set di pic come lo rappresento la chiave deve essere univoca quindi io non posso avere nello stesso dizionario contemporaneamente sette di fiore e sette di picche ok quindi non può funzionare il secondo motivo è che se io uso il mazzo se per me il mazzo è un dizionario non ho un ordine associato e allora quando ho le operazioni nel tipo prendi la prima carta del mazzo prendi le prime cinque carte del mazzo rimescolo il mazzo non posso rimescolare un dizionario o prendere le prime cinque carte in un dizionario perché l'ordine del dizionario se lo inventa lui non lo posso decidere io quindi in questo caso non va bene ok il contenitore più grande che è il mazzo deve essere una lista a questo punto mi chiedo la singola carta ma la devo pensare isolata rispetto al suo contenitore poi una volta che ho deciso come faccio la carta la metterò dentro quella lista questa carta a sua volta può essere appunto un record può essere un tupla eccetera eccetera ok quindi devo riuscire a separare un attimo la carta come la rappresento rispetto a la carta messa nel mazzo mentre qua si mescolavano un po' i due ruoli creando poi questi due problemi di ordinamento del mazzo e di univocità della carta no non è una battuta quella di suavo ma non confondiamo il fatto che un dizionario ci restituisce gli elementi in un ordine arbitrario cioè come vuole lui rispetto invece all'ordine casuale casuale è una cosa ben diversa ok nel senso che ogni volta è diverso è imprevedibile invece l'ordine degli elementi di un dizionario se fate lo stesso programma tre volte vi viene fuori sempre lo stesso ordine che non è l'ordine alfabetico che non è l'ordine di inserimento ma è sempre lo stesso ordine quindi un ordine deterministico non casuale arbitrario perché non è quello che ci aspettavamo non è quello in ordine ok quindi non usate mai l'ordine con cui salta fuori un dizionario o un insieme come se fosse un valore casuale non è casuale è ben definito semplicemente è antipatico perché non è ordinato ok allora questo qua lo cancelliamo quindi diciamo che scegliamo di andare avanti con l'esercizio usando il record e eventualmente valutiamo le tuple quando indichiamo cosa faremo di diverso se usassimo le tuple ok tutta questa roba qua la mettiamo in un commentone e cominciamo con la prima cosa che è la creazione del mazzo ok allora per creare il mazzo mi conviene definire prima quelle che sono l'insieme di valori e quelle che sono l'insieme di semi che saranno delle costanti nel nostro programma i semi sono cuori quadri fiori picche anzi fatemi scrivere al contrario picche fiori quadri cuori così ce l'abbiamo dal più sfigato al più potente no non ci serve però se dovessimo andando avanti controllare chi ha vinto sappiamo che il seme più basso vale meno del seme più alto perché faccio la stessa cosa con i valori i valori sono vi ho detto che partiamo dal dall'8 dal 7 non mi ricordo dal 7 qui ci sono 7 8 9 10 check donna re basso anche qui li mettono in ordine dal valore più basso al valore più alto ok io qui ho scelto di usare 7 8 9 10 li ho rappresentati come string e non come interi nonostante siano dei numeri interi perché ma per solito discorso che non mi piace avere in una lista un po' di interi un po' di string mi crea poi problemi dopo quindi anche se sono dei numeri interi in realtà sono la rappresentazione della carta e la rappresento sotto forma di stringa ok anche se sono dei numeri così almeno ho una lista di string che rappresentano i valori una lista di string che rappresentano i semi l'indice di questa lista se nella posizione 0 1 2 3 mi dà in certo senso quanto è forte questo valore quindi mi dice che il jack vale di più di un 8 e che quadri vale di più di picche paolo ci suggerisce un'altra possibilità di dare un valore numerico alle carte si potrebbe anche fare nel senso che anziché il valore lui dice jack potrebbe essere 11 la donna 12 il re 13 l'asso 14 si potrebbe anche fare dobbiamo ricordarci che col punto tutte le volte che dobbiamo stampare qualche cosa dovremmo avere una piccola tabellina di conversione dal numero al valore da stampare si potrebbe anche fare così io in questo in qualche modo visto che se fosse un altro gioco in cui c'è un valore reale della carta per cui che ne so a pinacola la donna vale 10 l'asso vale 15 allora lo farei così avrei il valore esplicito perché mi serve poi per contare i punti e qui in questo caso mi serve solamente sapere qual è la carta più forte di quale altra quindi per dare dei valori arbitrari 11 12 eccetera jack donna re io mi tengo i valori 0 hanno già dei valori questi in questo in certo senso 0 1 2 3 4 5 6 7 che sono gli indici in cui stanno nella lista quindi in certo senso prendendo l'indice come indicatore del suo valore risparmio risparmio una variabile risparmio una struttura dati se invece mi servisse mi servisse contare un punteggio allora ovviamente mi serve fare come come suggerisce Paolo ok allora la creazione del mazzo a questo punto è una cosa molto semplice abbiamo detto che il mazzo non è altro che una lista di carte e quindi quindi dovrò creare le carte di tutti i valori di tutti i semi quindi avrò un tranquillo doppio loop qualcuno prima aver scritto il codice poi visto che era troppo comodo per me copiare l'ha cancellato nella chat va bene valore in valori or seme in semi io posso costruire una nuova carta come un dizionario che abbia come valore il valore su cui sto iterando quindi di questo ford di linea 37 e come seme il seme del siamo giusto della linea 38 e questo dizionario lo aggiungo e questa carta l'aggiungo al mazzo quindi creo questa carta e faccio mazzo punto append di carta vediamo subito se funziona vediamo cosa salta fuori no è certo non ho fatto return allora valore 7 seme 7 valore 7 seme fiori 7 di picche 7 di fiori 7 di quadri 7 di cuori 8 di picche 8 di fiori bla 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 va avanti fino al asso di cuori che è la carta più importante del mazzo se vogliamo come al solito possiamo anche usare il nostro amico pretty print per vederla un po' meglio però di nuovo ok e ce le fa vedere così 7 di picche 7 di fiori 7 di quadri eccetera eccetera Filippo perché non mettiamo degli argomenti in questa funzione e che argomenti vorresti mettere perché questa funzione non ha bisogno di nessuna informazione per lavorare il suo lavoro è quello di creare il mazzo il mazzo è sempre lo stesso identico non dipende da nessun argomento o da nessun'altra variabile potrebbe essere potrebbe essere se noi facessimo un programma un pochino più complicato il numero di giocatori allora a seconda del numero di giocatori crea un mazzo di valori diversi però in questo caso avresti messo valori semi beh queste le ho anche io le ho dichiarate come costanti in modo che siano disponibili in tutto il programma se no le avrei potute passare a queste funzioni questa è una scelta io valori semi le ho dichiarate come costanti globali e quindi sono visibili da tutti le ho messe all'inizio in maiuscolo proprio per rappresentare questo altrimenti le avrei potute definire magari nel main e quindi poi le avrei dovute passare alla funzione crea mazzo sì in questo caso sarebbe stato il main a dover passare questi valori qua e a questo punto se avessi avuto un numero di giocatori diverso avrei creato questo array valori non come costante ma di dimensioni diversi in funzione del numero di giocatori la funzione pprint non funziona sul replay hai fatto l'import dovrebbe funzionare se no verifichiamo mi sembra che facendo parte della libreria standard dovrebbe funzionare ok andiamo avanti abbiamo creato il mazzo e il passo dopo mescolare il mazzo ottenendo ottenendo le 32 carte in un ordine casuale quindi abbiamo una funzione a questo punto def mescola mazzo che ovviamente riceve come parametro il mazzo che deve mescolare che si può fare in modo diverso qualcuno già prima aveva scritto nella chat che nella nella libreria random c'è una funzione che in realtà fa giusto il lavoro che si chiama shuffle andiamo a vedere documentazione di shuffle dice random.shuffle prende una sequenza x e shuffle the sequence x in place cioè rimescola la sequenza x in place vuol dire all'interno della stessa lista quindi non va a creare una lista nuova ma va a rimescolare gli elementi di quella lista normalmente secondo parametro non ci interessa poi c'è la nota che dice che lui non è in grado di generare perché il generatore numero casuale non è così furbo e quindi può come dice non è detto che genere tutte le combinazioni possibili tutte le permutazioni possibili e va bene quindi una possibilità di questo è semplicemente shuffle di marzo fine quindi io posso a questo punto vediamo creo il mazzo e poi mescola il mazzo e poi stampa lo eseguo e mi fa vedere un mazzo che è stato donna di quadri scusate sì donna di quadri jack di picche sette di cuori otto di fiori e così via questo se ci ricordiamo che esiste shuffle se non ci ricordiamo poco importa ce lo facciamo a mano ok quindi dobbiamo possiamo cosa fare prendere tutte le carte e inserirle uno a uno nel mazzo in un ordine diverso da quello in cui si trovavano allora se questa funzione però vogliamo che modifica riordina riordina le carte nella lista quindi non crea una lista nuova non ma rimescola gli elementi che già ci sono devo fare un minimo di attenzione per cui di fatto devo spostare gli elementi dentro il mazzo ma non perdere questo alias alla variabile del programma principale ricordate il discorso che abbiamo fatto sugli alias quindi dovrò evitare sempre di scrivere così ad esempio non posso ricostruire una una lista da zero e poi aggiungersi gli elementi dentro perché questa operazione questo uguale ci ricordiamo rompe l'alias e fa sì che stiamo lavorando da questo punto in avanti con una variabile locale e non più con la variabile del main quindi ovviamente per costruire metterci le carte in un certo ordine dovrò partire da un mazzo vuoto e quindi potrò usare ad esempio il metodo clear per cancellare il mazzo oppure se non mi ricordo che esiste il metodo clear posso anche usare uno slice dicendo tutti gli elementi del mazzo li sostituisco con un array vuoto è un altro modo e in questo modo mi svuoto il mazzo e lo ricostruirò con le carte in un ordine casuale però attenzione che quando faccio questo clear quando suoto il mazzo lo perdo quindi prima di perderlo me ne faccio una copia allora mi faccio una copia del mazzo suoto il mazzo di partenza e poi a questo punto prenderò una per una le carte della copia e le aggiungo nel mazzo la differenza che le prendo in un ordine casuale ogni volta ok ciò che dice Filippo dice ma il programma non vieta di creare una nuova lista sì assolutamente io posso infatti l'ho creata la riga 52 ho creato una nuova lista interna per comodità mia era semplicemente la funzione mescola mazzo che avevo scelto io che mescolasse il mazzo che gli passo fatemi fare una piccola parentesi io potrei fare una funzione come ho scritto qua che mescola il mazzo che ti ho passato che ti passo come parametro oppure potrei avere una funzione da chiamare in quest'altro modo quindi riceve un mazzo e ne restituisce uno diverso mescolato sono due scelte diverse cioè due opzioni diverse in questo caso abbiamo un parametro e la funzione modifica quel parametro lì nell'altro caso questo parametro non viene modificato ma ne crea uno nuovo e mi restituisce quello nuovo sta a me scegliere in questo caso sono equivalenti cioè equivalenti sono due modi diversi di procedere ma io sono andato sul primo ma perché shuffle in realtà fa così e quindi me lo trovavo già fatto in questo modo ok quindi in questo senso non crea una nuova lista è una scelta che faccio io di far sì di far sì che questa funzione modifichi la lista anziché restituirne una nuova infatti questa funzione non restituisce nulla non ritorna nessun valore invece nel secondo caso sarebbe una funzione che deve ritornare una nuova lista e non modificare quella di partenza questa è un'altra scelta possibile che potete fare io in questo momento non ho fatto ok quindi la creerei in modo diverso Andrea mi chiede se mazzo di due punti non rompe l'alias no no perché io non sto riassegnando la variabile mazzo ma sto rimodificando il contenuto quindi quando io sto è come scrivere mazzo di tre uguale a qualcosa io sto modificando il terzo elemento non sto modificando l'alias che punta alla lista di tutti gli elementi e qui anche è come se io stessi modificando tutti gli elementi per diciamo così tutti in un colpo solo ma il contenitore di questi elementi non viene cambiato ciò che è pericoloso è fare mazzo uguale dove vado a modificare non gli elementi contenuti ma il contenitore questo mi rompe l'alias ok allora ci siamo fatti la copia adesso dobbiamo iterare sul sul mazzo copiato e ogni volta estrarre un elemento a caso dal mazzo copiato quindi un bel ciclo finché ci sono carte nel mazzo copiato file lendi copia maggiore di zero ci sono ancora carte prendo una carta a caso in una certa posizione tra randint tra la posizione zero e la posizione lendi copia meno uno quindi ho trentadue carte scelgono un numero a caso tra uno tra zero e trentadue e trentuno poi e lo metterò nel mazzo poi sceglierò un'altra un'altra carta in una posizione a caso e la metto nel mazzo e così via 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 dalla copia le tolgo queste carte e quindi ogni volta questa lendi copia ad ogni interazione si ridurrà di un'unità perché ho tolto perché ho tolto una carta quindi ciò che farò è di prendere al mazzo appendo e di nuovo un appendo non rompe l'alias ma modifica il mazzo esistente la carta che è nella copia la posizione pos e poi dalla copia ovviamente elimino con un pop l'elemento che è in questa posizione e devo andare a importare dove sono gli import a rendente ok quindi vediamo un po' questa cosa se funziona in effetti ci ha generato jack di pic asso di pic 10 di fiori rai di cuori 10 di cuori di quadri eccetera eccetera e se tutto va bene dovrebbero essere 32 anche questi elementi cioè non dovremmo averli perso nessuno per strada ok e qui abbiamo siamo al secondo punto dubbi fin qua sul codice di Antonio non capisco perché l'ultimo l'ultima istruzione cosa ti serve l'append mazzo di zero ah perché la length è diverso da uno sì se avessimo usato un forci dare errore perché modifichiamo la lista mentre interavamo richiede Roberto sì ma anche perché il forci dà poi l'indice progressivo dell'elemento e non te ne fai nulla di quell'indice poi a un certo punto questo indice immagina di aver già spostato 16 elementi l'indice vale poi 17 18 19 ma tu quegli elementi non ci le hai già più quindi in questo caso ogni volta che iter o l'while mi vado a vedere ok in questo momento il vettore copia quanti elementi ha se non ha più nessuno esco se non ha ancora qualcuno ne scelgo uno per spostarlo ok perché length meno 1 perché randint ti restituisce un numero tra i due estremi compresi vedete che c'è un minore uguale sul randint quindi funziona diversamente dal range il range ti va fino al valore meno 1 ma randint ti comprende anche l'elemento finale e quindi devo mettere meno 1 altrimenti a volte mi dà il valore 32 che è fuori dalla lista mescola mazzo per rispondere a Giulia non ha un return perché modifica direttamente l'argomento che è stato passato quindi non ritorna niente io ti passo un mazzo e tu lo modifica e poi finito il lavoro finito non ho bisogno di ritornarmi il mazzo modificato perché mazzo modificato ce l'ho già è la stessa variabile mazzo che ti ho passato io un solo elemento con dei problemi per randinte no per fortuna è furba così ok non potrebbe copiarci due volte la stessa carta mi chiede Andrea no se il pop funziona come dovrebbe cioè nel momento in cui ho copiato la carta e questo è il trucco la tolgo dal mazzo copia la tolgo dal mazzo copia e in questo pop la cancella e quindi la volta successiva il mazzo copia avrà una carta in meno e quella che ho appena spostato non ci sarà più se dimenticassi questo sì chiaro che sarebbe un errore perché rischierei di pescare 32 carte così rischiando di pescare più volte la stessa ok Filippo mi chiede se all'esame preferiamo far tutto nel main senza funzioni è un errore non è un errore ma non è una buona idea fatevelo dire poi fate cosa volete proprio perché facendo le funzioni uno può testarlo un pezzo per volta allora chiamo questa funzione non la chiamo vedo il risultato metto una print dentro eccetera se fate tutto nel main liberissimi di farlo però rischia di crescere un po' tanto e di confonderti di più però non è non è richiesto esplicitamente di strutturare delle funzioni io lo faccio perché altrimenti mi perderei io stesso nel codice se il programma è un pochino lunghetto almeno ogni funzione quando l'ho finito quella mi cancello dalla mente quel problema e mi concentro sul problema successivo Gabriele perché restituisce prima il seme e poi il valore ma è solo la pretty print che mette in ordine alfabetico le chiavi del dizionario come aveva fatto prima se gli dico di non farlo me le stampa così come le avevo inserite no tanto poi la pretty print la togliamo alla fine ci serve solamente adesso per costruire ok poi abbiamo fatto il punto 1 siamo bravi ci abbiamo messo un'ora no salvare sul file mazzo.txt il contenuto del mazzo mescolato in questo formato vabbè questa qua è una cosa che se ci mettiamo più di 3 minuti è perché ci siamo addormentati def salva mazzo nome file mazzo e quindi creerò un file di uscita open nome file virgola write in scrittura for carta in mazzo scriverò write dunque lei mi chiede di stampare nel formato carta spazio seme cioè valore spazio seme allora ci scriverò carta di valore spazio scusate mi mancano le graffe spazio graffe carta indice seme a capo hotfile punto close ok dovremmo essere a posto abbiamo semplicemente scritto nel formato giusto nel formato richiesto i vari valori bisogna fare attenzione agli apici quindi la string l'ho aperta con gli apici singoli e quindi dentro il dizionario dovrò usare degli apici doppi per evitare conflitto salviamo il mazzo sul file il testo ci diceva che il file doveva chiamarsi mazzo.txt virgola mazzo vediamo questa che ci da fastidio e vediamo se viene creato correttamente il file mazzo.txt eccolo qua e che contiene questa particolare rimesconatura del mazzo stesso ok e quindi abbiamo fatto il punto 2 questo era il più facile dove andate il testo punto 3 estrarre le carte dal mazzo a gruppi di 5 ignorando il resto quindi a questo punto io posso non ho capito la domanda Andrea che conflitti di che tipo estrarre le carte mentre puoi fare la domanda andiamo avanti con il ragionamento entrando le carte a gruppi di 5 quindi a questo punto sono nel vivo ho il mazzo o il mazzo rimescolato e devo creare le varie mani quindi posso avere un ciclo in cui mi creo la prima mano la seconda mano la terza mano del gioco stampiamo un dizionario in un file non è un problema sto iterando e poi ad ogni iterazione stampo i campi del singolo ah no forse scusa forse ti riferivi alle virgolette no forse ho usato la parola conflitti qua perché se io usassi un apice qui poi la sintassi chiaramente non è giusta perché apro la stringa qua e questo apice verrebbe preso come stringa vuota ok come chiusura della stringa e quindi se io ho una stringa che è aperta col singolo apice all'interno di questa stringa dovrò usare i doppi apici e viceversa ok se usiamo la f string se usiamo altri metodi tipo la concatenazione non ci dà problemi ok scusate torniamo al ragionamento allora elaboriamo il mazzo creando le varie mani e magari per ora stampiamo la singola mano per vedere cosa esce fuori stampare a video le 5 carte estratte di ogni mano quindi facciamo queste due parti estraiamo a 5 e 5 e le stampiamo a video allora diciamo chiamiamo una funzione che si può chiamare estrai i mani dal mazzo chiaramente allora estrai i mani dal mazzo una mano che cos'è se non è le prime 5 carte del mazzo quindi estrai fare una mano di carte che sarà una lista di 5 elementi che sono carte non è altro che prendere i primi 5 elementi del mazzo restiamo 0 2.5 per essere chiari e poi attenzione che queste 5 carte che ho preso le toglierò dal mazzo ok le devo togliere dal mazzo perché altrimenti la prossima mano riprenderò di nuovo le stesse carte per togliere le prime 5 carte dal mazzo ho credo tre modi di farlo il modo più veloce è usare l'operatore del che forse non abbiamo visto che semplicemente cancella quegli elementi il secondo modo è quello di usare un'assegnazione di una slice vuota quindi quelle 5 che ho preso le sostituisco con nulla la terza la terza opzione è fare 5 volte mazzo appunto proprio di 0 ok 0 5 perché il 5 è escluso 0 compreso 5 è escluso quindi sono dallo 0 alla 4 un totale di 5 carte per cancellare dal mazzo ho questi tre questi tre modi che sono assolutamente equivalenti ok questo mazzo pop di 0 ovviamente si devo fare con un piccolo ciclo un ciclo ford 5 semplicanto Antonio e' Antonio ce ne da un'altra che si va bene lo stesso che sarebbe questa la copiamo qui quindi rimpiazzo l'intero mazzo con la porzione di mazzo che va dall'elemento 5 in avanti si anche un pochino più invasiva perché stai ricostruendo da zero ma alla fine la soluzione è sempre la stessa non posso usare o meglio preferirei non usare questa che suggerisce Stefano perché mi rompe l'alias mazzo uguale mazzo di 6 due punti a parte che dovrebbe essere 5 perché 5 ha compreso la sesta carta è quella di indice 5 ma a parte questo dettaglio così rompo l'alias col mazzo di partenza quindi sto creando una nuova variabile di tipo un nuovo mazzo potrei farlo però finora abbiamo sempre lavorato sempre con la stessa struttura dati anziché su una copia in questo caso farei una copia e non più il mazzo di partenza se dovessi farlo magari lo farei facendomi già subito una copia all'inizio mazzo di lavoro uguale a list di mazzo l'importante però è essere coscienti che questa è diversa dalle altre perché questa crea un nuovo mazzo che a questo punto si scinde rispetto all'argomento che ho ricevuto dal main quindi da questo momento in avanti non sto più modificando il mazzo del main ma ne sto modificando uno diverso quindi questa qui preferirei di no questa attenzione rompe l'alias non è vietato devo saperlo ok ecco quello che non dovete fare l'ho visto fare alcuni in alcuni esercizi è una cosa di questo genere for in range di 05 mazzo punto pop di che effettivamente l'argomento sembra sensato io devo cancellare l'elemento 0, 1, 2, 3, 4 e quindi faccio il pop di 0, di 1, 2, di 3, di 4 peccato che non funziona perché nel momento in cui faccio pop di 0 l'elemento 1 non è più quello che era prima l'elemento 1 ma era il 2 che si è sposato indietro ok quindi devo sempre comunque far togliere 5 volte il primo elemento non il primo poi il secondo poi il terzo poi il quarto altrimenti vado a togliere roba che non c'entra niente ok quindi questo qui lo scrivo solo perché l'ho visto negli esercizi precedenti spero che oramai sia passato di mente ok queste qua li commento ne tengo uno solo che sono visto che sono tutte equivalenti se si mettesse pop di 0 sì assolutamente infatti era quello che ho scritto qua fare 5 volte pop di 0 se vogliamo mettiamolo proprio esplicitamente va bene andiamo avanti quindi allora questo è il modo per estrarre una mano io ovviamente questa mano la estraggo la devo stampare e poi devo ripetere per le mani successive quindi questa operazione qua devo ripeterla fin tanto che ci sono sufficienti carte nel mazzo quindi questo qua lo metterò bene dentro un while la lunghezza del mazzo sia almeno di 5 carte allora posso fare questo lavoro se la lunghezza del mazzo fosse minore di 5 carte chiaramente non posso estrarre una mano da 5 quindi mi devo fermare Dell è un operatore per eliminare degli elementi per rispondere al suo avro della chat che è un non l'avevamo visto prima ma è assolutamente equivalente a cancellare gli elementi facendo pop oppure facendo la differenza tra Dell e pop è che pop ne toglie uno per volta mentre Dell può anche togliere un gruppo di elementi insieme quindi è questa o questa o questa sono 4 modi diversi di fare la stessa cosa cioè cancellare 5 elementi da una lista i primi 5 elementi di una lista poi abbiamo strato la mano non ci abbiamo ancora fatto nulla dobbiamo stamparla ok vabbè in un formato dice a nostro piacere quindi possiamo fare una stampa for scusate rido perché Martha si sta mostrando in tutto il suo interesse per lezione o sta mostrando qualcun altro for allora le carte nel mazzo in mano scusate nella mano stampo la singola carta quindi farò una print no si è tolto F dunque devo stampare prima ad esempio il valore poi il seme quindi carta faccio come facevo prima posso usare la stessa print che usavo nel file senza il bar n però magari metto un trattino e non vado a capo perché la mano la voglio scrivere di fila quindi and uguale non vai a capo e poi vado a capo una volta sola allora ricordiamoci mano che cos'è mano è una lista di cinque elementi che sono carte sono oggetti tipo sono dizionari che rappresentano la carta e quindi se faccio eseguire questo programma che magari deve anche chiamare la funzione estrae i mani vedrò la prima mano è un otto di cuori nove di cuori nove di picche re di fiori jack di fiori dieci di fiori nove di fiori questa seconda mano donna di cuori asso di quadri jack di cuori e così via abbiamo sei mani di cinque carte ciascuna giustamente sono trenta carte due sono rimaste fuori le ultime due carte del mazzo ok e abbiamo fatto tutto tranne la parte difficile abbiamo stampato le cinque carte estratte in un formato piacere adesso dobbiamo trovare la combinazione del poker corrispondente alle cinque carte estratte quindi noi possiamo modificare molto facilmente questo programma aggiungendo una funzione combinazione che riceve una mano e restituisce la combinazione che ha riconosciuto per ora facciamo una combinazione facile da riconoscere e modifichiamo estrarre i mani in modo da stampare a fianco della sequenza magari questa cosa qua la mettiamo su due caratteri così sono più allineati semplicemente per averlo allineato e poi potrei stampare semplicemente la combinazione di questa mano quindi a fianco quindi a fianco della mano stampo anche la combinazione che ho riconosciuto qui facciamo come si fa così per eliminarlo a destra ok ma al di là della formatazione che come sempre non vogliamo concentrarci su questa adesso il grosso del lavoro è prendere e implementare questa funzione combinazione tutto il resto del programma è fatto è finito ogni volta che faccio run vedete che mi dà delle combinazioni delle mani di carte diverse e dovrò scoprire il loro valore quindi questa funzione combinazione è quella dove devo andarmi a ricordare tutti i possibili punti del poker e restituire il nome scala reale del poker colore della combinazione che ho riconosciuto in ordine chiaramente nel senso che una scala reale è anche un colore è anche una scala perché soddisfa i criteri di una scala soddisfa i criteri di un colore però è una scala reale quindi dovrò prima vedere se è una scala reale se non lo è controllo se è un poker se non lo è controllo se è colore eccetera eccetera una doppia coppia o meglio un full contiene al suo interno sia tris che doppia coppia che coppia però deve contare come full quindi devo andare per ordine la prima che riconosco partendo da quelle più pregiate deve essere quella riconosciuta questa è quella ritornata e poi via via andrò a quelle sempre più sfortunate ok allora qui io mi creerei una serie di di if se qualcosa return scala reale e l'if qualcosa return come è che si chiama poker successivo e l'if qualcos'altro e di qualcos'altro return colore e l'if di qualcosa poi dovrò sostituirli per ora semplicemente costruendo il castello poi il castello va riempito di stanze full scala return e poi questo force via via lo dovremmo sostituire con una condizione vera e propria e se non è neanche una coppia non è nulla non hai niente in mano non hai nulla in mano quindi per ora stamperà sempre nulla perché ho messo sempre force non ho riconosciuto una scala reale non ho riconosciuto un poker non ho riconosciuto un colore non ho riconosciuto con full eccetera eccetera angelo mi dice faccio dalla più bassa alla più alta in realtà io con questa catena di if appena trovo una alta mi fermo non vado a valutare le altre quindi non vado a valutare tutte e poi tengo l'ultima la prima che trovo faccio return e quindi mi restituisce questa non va neanche a vedere quelle sotto quindi lo trovo più coppino così se no come dici tu si può fare anche nell'altro modo non facendo però non devi fare return subito devi salvartelo in una stringa che poi eventualmente viene sovrascritta da una combinazione migliore allora quali sono quelli facili se non ci sono coppie si può vedere la carta più alta quindi vabbè se anziché nulla e questo è un punto che c'è sempre possiamo carta singola anziché nulla è una magra consolazione avere un punto di carta singola allora quali sono le più facili da riconoscere per me la più facile da riconoscere è il colore perché basta vedere quanti semi diversi ci sono nella mano sono tutti uguali quindi quanti semi diversi ci sono uno allora definiamo la funzione e chiaramente non vado a complicare questa se non ci capisco più nulla definirò delle funzioncine di supporto che ne so is colore che la scrivo qua sotto e e cosa fa questa is colore va a vedere quali sono i semi che sono presenti in questa mano i semi diversi tra di loro allora visto che considero i semi diversi li metto in un set aggiungo a questo set tutti i semi che ho visto por carta in mano semi.add carta di seme e avrò colore se in questo insieme semi ce n'è uno solo sono tutti i cuori quindi if len di semi uguale a 1 return true altrimenti return false giusto? non sono due i semi per aver colore devo avere un seme solo tutti i cuori tutti i quadri i semi sono quattro in teoria potrei avere un insieme di quattro semi diversi ma se alcune carte hanno lo stesso seme nel set i duplicati si eliminano ovviamente non abbiamo abbastanza culo per veder saltare fuori un colore qua sotto però lo stesso concetto lo potremmo usare per per il full no nel full abbiamo due valori soli e anche nel poche in realtà se facciamo lo stesso ragionamento sul valore in un poker abbiamo quattro carte uguali e una diversa nel full abbiamo tre carte uguali e altre due carte uguali quindi sia poche che full in qualche modo si somigliano la differenza è minima una che ha quattro carte l'altra che ne ha tre allora potremmo definire una funzione che visto che ci interessa sapere se ho quattro carte uguali oppure se ho tre carte uguali per il full o tre carte uguali per il tris oppure due carte uguali per le coppie io potrei definire un'altra funzione diciamo una funzione che dica del genere che mi dica questa mano ha tante carte uguali cioè ha due carte uguali ha tre carte uguali esattamente chiamiamola top quindi se ha esattamente quattro carte uguali se ha esattamente quattro carte uguali sarà un poker se ha esattamente tre carte uguali e anche ha esattamente due carte uguali sarà un full giusto? quindi proviamo a usarla poi lo dobbiamo inventare perché dobbiamo scrivere per inventare questa funzione però se la mano ha quattro carte uguali è un poker se in questa mano ci sono qui sono il full tre carte uguali e ci sono due carte uguali tre carte uguali tra di loro è un full qui non stiamo confrontando i punti solo vedendo quale punteggio è chiaro che poi dopo se devo dire chi ha vinto devo andare a confrontarle ma per ora non ci serve non abbiamo deciso di non farlo questo programma non ce l'ha chiesto è chiaro che è una complicazione in più riconoscere poi quale mano vince per ora dobbiamo solamente dire che cos'è ugualmente se ho due elementi uguali avrò una coppia a meno che non sia una doppia coppia ma a questo punto diventa poi complicato la dobbiamo gestire e se ne ho tre uguali ho fatto tris quindi questa funzione è uguale carina dobbiamo solo essere capace a scriverla no perché ci permette di beccare il full il tris il poker e la coppia perché hanno una regola semplice carte uguali ovviamente di valore uguale il seme non ci interessa in questo ok allora come possiamo implementarla e noi abbiamo una mano che è come questa e noi dobbiamo dire va bene quante carte uguali ci sono qui beh adesso noi sappiamo noi sappiamo la domanda è ci sono due carte uguali la risposta sarebbe sì perché ci sono due re ci sono tre carte uguali la risposta sarebbe no perché re dieci asse donna re non sono tre carte uguali qui di nuovo ci sono due carte uguali ma non tre se ci fosse un tris dovrei rispondere di sì se vedo tre carte uguali devo rispondere di no se invece vedo solo due carte questo esattamente vuol dire che se io ci sono tre carte uguali e mi chiedono tot uguale due devo dire di no quindi tris e full non vengono confusi tris e full non vengono confusi perché se ne ho tre e ne ho due se io ti dico guarda che io ho tre carte uguali e poi due carte uguali è ovvio che le due carte uguali sono altre due perché quelle che sono due uguali non sono tre tutto questo ci gioca questo esattamente quindi dobbiamo implementare bene questo è chiaro che io non posso chiedermi ne hai due e se ne trova tre mi dicesi sì no se ne trova tre è sbagliato te ne ho chieste due devi dare esattamente due allora dobbiamo innanzitutto concentrarti sui valori quindi io la prima cosa che farei la prima cosa che farei è farmi una lista in cui ci sono solamente i valori prese dal dizionario dalla mano ok quindi for carta in mano valori punto append di carta di valore così ci siamo tolti dai piedi i semi e abbiamo solamente una lista di valori ho usato una lista e non un set perché i duplicati altro che se mi interessano mi interessano molto anzi è proprio quello che mi interessa dopodiché avrò cinque valori quindi immaginiamo che sia in questo caso no potrebbe essere la lista che abbiamo detto qua forse la prima la prima mano che sto copiando da sotto avrei un re un dieci un asso una donna e un altro re allora io potrei dire ok di k quanti ce ne sono? due allora se to te due bene l'ho trovato se to te due vado avanti di dieci quanti ce ne sono? uno se to te uno bene l'ho trovato altrimenti niente e così via e quindi io potrei fare un ciclo valore in valori li prendo tutti se nei valori il count di quel valore specifico è uguale al tot che mi hanno chiesto allora sono posto se no vado avanti e solo alla fine del forse non l'ho mai trovato potrò dire che non c'era è chiaro cosa sto facendo io sto prendendo uno per uno questi e mi sto chiedendo quanti ce ne sono di questi e il qua valore è la singola carta prima prendo k poi prendo 10 poi prendo a è la singola carta valori è questa lista e mi sto chiedendo questa singola carta quante volte c'è nella lista se il numero di volte che c'è è esattamente uguale al numero di volte che io vorrei che ci fosse una carta ripetuta allora sono a posto se il k non c'è tre volte non posso ritornare subito falso devo verificare se il 10 c'è tre volte se l'asso c'è tre volte e così via solo dopo che le ho passate tutte in questo ciclo for e non ho trovato nessuna posso permettere di dire non l'ho trovata e quindi non c'è ok allora vediamo un po' le domande e poi proviamo a vedere se funziona perché per ora mi sono convinto ho cercato di convincervi che funzioni ma finché non lo vediamo non siamo sicuri però proviamo prima a rispondere alle domande se facciamo la differenza della lista con un set che toglie i duplicati quindi ci risulta il numero di valori duplicati e allora Andrea penso di aver capito il tuo ragionamento il problema è che funziona con due ma non con tre se ne avessi tre diventa complicato perché se toggo i duplicati poi devo devo distinguere il fatto che ne sia rimasto uno e ne sia rimasto due quindi devo gestirlo come ulteriore caso particolare Antonio mi dice non sarebbe meglio implementare la funzione in modo che ritorni il valore delle carte uguali e poi negli limit le condizioni ho capito quello che intendevi però è ambiguo quello che dici tu perché se io avessi un full cosa mi ritorna tre o due lui ha trovato tre carte uguali e altre due carte uguali cosa mi restituisce in questo caso allora diventa più complicata quella funzione o dovrebbe restituire o il più grande di quello che ha trovato però non mi basta per il full perché io ho le tre carte uguali ma le altre due devono essere una coppia quindi devo trovare anche le altre due oppure mi istituisce una tupla una listarella cioè diventa complicato se abbiamo un full mi chiede Andrea che cosa succede? succede che spero mi crocio le dita che funziona nel senso che il full è fatto di tre carte uguali e altre due che sono ugualità di loro un tris è una coppia quindi qui mi dice se c'è un tris qui mi dice se c'è una coppia quando va a vedere la coppia questo due fa sì che lui non confonda le due carte del tris come se fossero le carte della coppia perché devono essere due esattamente due questo qua c'è un bello uguale non c'è un maggior uguale e quindi quando faccio es uguali tre vede se c'è il tris poi se faccio es uguali due vede se c'è la coppia se nella stessa mano c'è sia un tris sia una coppia allora sarà full roberto ha risposto alessandro dicendo che io questo false ci arrivo solo se non sono passato da nessuno di questi true cioè appena faccio uno di questi return la funzione esce e quindi a questo return della riga 131 arriverò solo se non ho mai trovato vera questa condizione ok quindi non la faccio sempre la faccio sempre se non sono uscito prima e esco prima se trovo la condizione giusta proviamolo poi vediamo cosa dice Antonio allora in questo caso trovo delle coppie coppia carta singola è vero non c'è nessuna coppia qui è vero carta singola coppia vediamo se si trova qualcosa di meglio ecco un tris sette re 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 ha trovato un tris qua con tre re una coppia di nove una coppia di jack è chiaro che non è poi il full non è che ci arriva a tutti i momenti neanche il poker però in teoria questo algoritmo è già in grado di riconoscere eccolo qua il poker poker di donne non abbiamo ancora visto un full che in realtà dovrebbe essere più probabile del poker quindi vuol dire che o il tris o non lo trova o c'è un baco oppure non ci sta uscendo eh Maria Chiara ha trovato il full benissimo vabbè è ovvio che se uno dovesse fare un programma serio di questo genere anziché mettergli dei mazzi a caso si fa un mazzo con delle mani precostituite in modo che in ogni mano ci sia la combinazione che deve riconoscere si fa un programma di test apposta anche a questo serve fare il programma diviso in funzioni perché io ho la funzione estrarre i mani posso dargli un mazzo costruito appositamente in modo che lui che io sappia già esattamente cosa deve trovare ok qui già cominciamo già a dividerci tra quelli che sono più fortunati e quelli che sono meno fortunati io ho visto un po' che una volta è poi tutta schifezza va bene cosa ci rimane ci rimangono ci rimane niente perché abbiamo già sforato di cinque minuti rispetto all'orario e quindi so che non è oggi probabilmente che andremo a sbancare il casino ma di fatto ci mancano ancora due casi ok due funzioni da scrivere uno è la scala in una scala ho cinque carte tutte diverse ma messe in ordine devono essere consecutive purtroppo io ho cinque carte su otto possibili quindi non mi basta trovare cinque carte diverse devono essere nell'ordine giusto se io avessi una funzione che mi dà se è una scala proviamo a scrivere la finta ok vi rubo ancora due minuti se è una scala per adesso ritorno falso perché non devo ancora costruirla ovviamente allora qui nella scala la posso mettere if is scala e sistemo anche la scala reale che ci viene sempre perché basterà chiedersi che se è una scala e è anche colore se è una scala e è anche colore allora è una scala reale quindi bisognerà ancora implementare is scala e bisognerà implementare una funzione a parte per is doppia coppia perché non funziona se io lo implementassi così se ce ne sono due uguali e ce ne sono due uguali non mi trovo la doppia coppia perché rischierebbe di trovarmi se avesse una coppia semplice mi troverebbe due volte la stessa coppia quindi io qua mi devo complicare non posso dare is uguali devo costruirmi una funzione apposta che in qualche modo modifichi is uguali ma faccia due count separati di due variabili di due valori diversi quindi questa qui dovrò farla a parte se vogliamo devo farmi una funzione a parte solamente per doppia coppia is scala dovrebbe avere come parametro mano assolutamente sì dov'è che l'ho dimenticato is scala di mano ah mano mano non masso tra l'altro masso qua dentro non ce n'è pure quindi is scala mano ok e quindi dobbiamo anche implementarci la is doppia coppia ok e questo ce lo dobbiamo implementare a parte perché adesso il tempo è finito is doppia coppia sarà una variante di is uguale in qualche modo provate a pensare come vi viene in mente is scala non è non è banalissima chiaramente conta l'ordine con cui compaiono le carte e conta l'ordine conseguenziale ok ovviamente deve stampare solamente il punto maggiore quindi se ho una coppia doppia coppia devi scrivere doppia coppia non devi scrivere doppia coppia virgola coppia se ho capito bene ciò che dice Luca va bene io vi lascio perché se no vi arrabbiate che sforiamo al di fuori dell'orario certo che pubblico questo sul sito e poi magari lascio passare qualche giorno e pubblico la versione finale noi ci vediamo a questo punto per l'otto di gennaio non studiate troppe analisi durante le vacanze ricordatevi che c'è anche informatica e all'inizio di gennaio faremo questa simulazione d'esame usando il sistema man mano che produco nuovo materiale sia esercizi di teoria sia esercizi di programmazione e man mano che riusciremo ad abilitarvi ad accedere al portale ve lo comunico su Slack quindi di tanto in tanto ricordatevi di dare un'occhiata e nel frattempo fate buone vacanze e ci vediamo tra due settimane buona giornata a tutti